Spaccati il culo, non c'è nessuna pillola magica. Mi fa impazzire andare in palestra. Andavo e mi allenavo 5 ore al giorno e stavo lavorando nell'edilizia. Abbiamo 24 ore al giorno, organizzate la vostra giornata, lavorate sodo. Sono qui per parlare di successo. Andavo all'università. Andavo e mi allenavo 5 ore al giorno, mentre lavoravo nell'edilizia. Perché in quei giorni nel bodybuilding non c'erano soldi. Non avevo i soldi per integratori alimentari o altro. Quindi dovevo andare a lavorare. Quindi ho lavorato nel settore dell'edilizia. Andavo in università, mi allenavo in palestra e la sera dalle 20 a mezzanotte. Andavo a lezione di recitazione. 4 volte a settimana. Ho fatto tutto questo. Non c'è stato un singolo minuto che abbia sprecato. All'età di 20 anni andai a Londra e vinsi il concorso di Mister Universo come il più giovane di sempre. E questo perché avevo un obiettivo. Se non avete una visione di dove andate. E se non avete un obiettivo da raggiungere, andrete alla deriva e non finirete da nessuna parte. 74% delle persone in America odiano il loro lavoro. Alla maggioranza delle persone non piace quello che sta facendo. Perché non lo stanno davvero facendo, perché non avevano un obiettivo da perseguire. Sono semplicemente senza meta e poi c'è un'opportunità di lavoro che colgono perché devono lavorare. Ma poi quando lavori è soltanto una faccenda. è lavoro. Non divertimento. Quindi pensateci, solo a un quarto delle persone piace davvero quello che stanno facendo nella vita. E la gente mi chiede sempre. Quando mi hanno visto in palestra nei giorni di duro allenamento, hanno detto perché ti stai allenando così duramente. 5 ore al giorno, 6 ore al giorno e hai sempre il sorriso sul volto. Gli altri stanno lavorando duramente come te e hanno un aspetto aspro in faccia. Perché? E io dicevo sempre alla gente che io sto inseguendo un obiettivo. Di fronte a me c'è il titolo di Mister Universo. Quindi ogni ripetizione che faccio mi avvicina al raggiungimento dell'obiettivo di trasformare questo obiettivo, questa visione in realtà. Ogni singola serie che faccio. Ogni ripetizione, ogni peso che sollevo, mi porterà un passo più vicino a trasformare questo obiettivo in realtà. Quindi non vedevo l'ora di fare un altro squat da 500 libre, 226 kg. Non vedevo l'ora di fare un'altra distensione su panca da 500 libre. Non vedevo l'ora di fare altre ripetizioni da 2000 addominali. Non aspettavo altro che il prossimo esercizio. Quindi lascia che ti dica qualcosa, visualizza il tuo obiettivo e per seguirlo lo rende divertente. Devi avere uno scopo, non importa quello che fai nella vita. Devi avere uno scopo. Mohamed Ali. Si è fatto il culo. E l'ho visto in prima persona. Ora ricordo che c'era uno scrittore sportivo. Era lì in palestra, e si stava allenando, stava facendo degli addominali. E gli ha chiesto, quanti addominali fai? E lui disse, non inizio a contare fino a quando non fa male. Ora pensateci, non inizia a contare i suoi addominali fino a quando non avverte dolore. È allora che inizia a contare. Questo è lavorare sodo. E quindi non puoi evitare il duro lavoro, non importa chi tu sia. Spaccatevi il culo. Non c'è nessuna pillola magica. Non c'è magia là fuori.